Non hai la minima idea di quello che ti aspetta. Il signor Wick ha infranto le regole. Lei capisce che ci saranno conseguenze se sopravvive. John Wick, la scomunica è ora in vigore. Non dovevi venire qui. Bel vestito. È bello rivederti. Mi serve il tuo aiuto. Se accetto, sarai tu a dovermi qualcosa. Non hai possibilità di fuga. La gran tavola vuole la tua vita. Vogliamo mettere a proprio agio il nuovo ospite? Ma certamente. I servizi sono ancora off-limits per me. Cosa ti serve? Armi. Tante armi. Tu quindi pensi di poter fermare John Wick? Sappi che ti aspettano brutte sorprese. Sognavo di incontrarti. Da tanto tempo. Arjun! E finora non mi hai deluso, John. Possiamo continuare quanto vuoi. Ma tanto il finale non cambia. È tutto questo per cosa? Per un cagnolino? Non era solo un cagnolino. Non era solo un cagnolino.